Mi riconoscete? Certo, le mie foto sono conosciute in tutto il mondo, la mia faccia invece no. Ecco perché quando viaggio porto sempre con me la carta American Express, per acquistare dai jeans ai cavalli, così tutti mi riconoscono in un millesimo di secondo. Carta American Express, per richiederla prendete un modulo dovunque la carta è accettata. Carta American Express, non uscite più senza di lei.